Buongiorno per i ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare like e attivare la campanellina. Parliamo oggi del tempo previsto sull'Italia nei prossimi giorni, quando ancora in questa giornata, soprattutto al pomeriggio e alla serata, avremo ancora il rischio di focolai temporaleschi molto intensi al nord-est, sul Piemonte, sulla Liguria e soprattutto sull'Emilia, con la possibilità anche di una supercella tra bolognese e modenese. Poi ecco che nei prossimi giorni avremo un netto miglioramento con l'arrivo di sole e bel tempo e a partire dal 20-21 giugno avremo l'arrivo della primavera ondata di caldo della stagione con picchi diffusi fino a 30-33 gradi, con picchi fino a 35 gradi sulle pianure del nord e fino a 36-37 sulle isole maggiori. Vi ricordo che questa comunque è ancora una tendenza. Grazie per la visione!